Il corpo, e quindi il cervello che è corpo, avverte un bisogno, una voglia, un desiderio. Non basta questo per decidere. Il cervello fa un'altra operazione. Cerca un elemento che può mettere in crisi l'obiettivo. Poi utilizza questo elemento di crisi dell'obiettivo per costruire un secondo obiettivo. Poi li confronta e sceglie il migliore. Se così è, l'aspetto del dovere significa che è possibile trasformare quel dovere in piacere in modo che la singola scelta operativa costituisca qualcosa di più piacevole della violazione del dovere. Ora, questo dipende dal fatto che l'essere umano è l'unico che attribuisce un valore di ricompensa alle idee. L'animale avverte fame e attribuisce un valore di ricompensa all'atto del mangiare. L'essere umano ha delle idee di ricompensa. Faccio questa tal cosa e mi sento bello, buono, bravo, onesto, per bene, non traditore, e così via. Questi sono valori di cui il nostro cervello dispone non nella parte cosciente, ma nella parte incosciente, quella che effettivamente decide ad altissima velocità. Allora si tratta di inserire in un cervello che per avventura ne sia privo e che voglia raggiungere questo obiettivo una sorta di algoritmo che dica che rimanere vergini è bello. Se quest'algoritmo si forma, la scelta che il cervello di quel soggetto farà volta per volta è per lui positiva, sta realizzando il suo piacere. Piacere che è legato all'idea e al ritorno piacevole che quell'idea attuata darà. E' chiara la differenza, nel primo caso, dovere come fonte di dolore, il processo volitivo si è bloccato. Una parte, la parte cosciente, dice alla parte incosciente del cervello, basta, ho deciso io, adattati. E questo è una sorta di blocco all'attività cerebrale, alla fluidità, e quindi alla fluidità del volere, sentire, pensare, sognare e così via. Nell'altro caso abbiamo invece una fluidità della decisione, che è sempre pronta a essere rivista. Quando salgo sulla metro e vedo qualche bella donna, non faccio fatica a non allungare le mani, ma le mani vorrebbero. Mi ritorna l'immagine che sto bene in libertà e non in prigione, mi ritorna l'immagine che sono una persona perbene, che queste cose le fa al luogo e al tempo dovuto e non sulla metro, e non faccio nessuno sforzo. E di questo sono contento. Sono allora libero di scegliere, e sceglie il mio cervello, se allungare le mani oppure no, sulla base del piacere. E certamente è più forte, almeno per me, il piacere di sentirmi una persona perbene, piuttosto che il piacere che può venire dall'avere allungato una mano. Questo è un modo sano di stare nel dovere, e cioè è un modo che passa attraverso la costruzione del dovere come piacere. Ma il piacere è la negazione del dovere. Questo fa fare tilt un po' al discorso, ma così funzioniamo. Una piacere.